Scelta azzardata da parte di Millie Carlucci. La nuova concorrente ha un problema. C'è un maestro con cui non vuole ballare. Il conto alla rovescia da parte dei fan è iniziato ufficialmente. Ancora poche settimane e ballando con le stelle tornerà protagonista in prima serata. Stando alle prime indiscrezioni, il ritorno di Millie Carlucci sarebbe previsto per il prossimo 28 settembre. Come al solito sarà di sabato e la conduttrice sta già lavorando per regalare al proprio pubblico un'altra stagione con i fiocchi. Si tratterà dell'edizione numero 19 per il celebre show che ha iniziato la sua avventura nel 2005 e sembra ancora oggi in grado di regalare grandissime emozioni. Merito della padrona di casa. Non è mai stato preso in considerazione un cambiamento in tutti questi anni. Ma anche dei tantissimi volti dello spettacolo che edizione dopo edizione hanno deciso di mettersi in gioco. L'ultimo nome è davvero da urlo. Non solo perché verrebbe strappato dalla concorrenza di Mediaset. Ma anche perché potrebbe avere alcune difficoltà capitando insieme a un maestro di danza in particolare. E secondo gli esperti, Millie Carlucci vorrebbe proprio lei. Ballando con le stelle. La concorrente dice no al maestro. Cosa sta succedendo? Inserire l'opinionista all'interno dello show potrebbe rivelarsi un azzardo. Ma a quanto pare Millie Carlucci sembra disposta a rischiare. La conduttrice sembrerebbe voler puntare forte su Sonia Bruganelli. Conosciuta dai più per essere stata l'ex moglie di Paolo Bonolis, è una grande protagonista all'interno del piccolo schermo. Quest'anno si è messa in mostra grazie all'isola dei famosi e oggi è sulla bocca di tutti. Insomma, nuova vita e nuovi capitoli professionali in arrivo per la Bruganelli che dentro ballando con le stelle troverebbe anche quello che da qualche tempo è diventato il suo nuovo amore. Prima erano solo voci. Ma di recente sono arrivate conferme. La showgirl e Angelo Madonia sembrano stare insieme. Per questo, rivelano diverse fonti, la Bruganelli potrebbe avere qualche difficoltà ad essere accoppiata a quello che nella vita è il suo compagno. D'altro canto, vederli rivali potrebbe dare vita a una sfida mai vista prima. La nuova edizione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata ma già promette scintille. Anche perché Millie Carlucci sta completando il cast proprio in questi giorni e presto regalerà agli appassionati altri nomi d'eccezione. Chissà se quella composta da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sarà l'unica coppia di fidanzati all'interno dello show.